Vedere, vedere, vedere. Oh, mi dica una cosa, lei che ha gli occhi buoni, non le pare che sia il caso di dare una piallattina qui? Sì. Vediamo un po'. Oh, ancora una piallattina? No, no. Va bene così? Eh, sì, abbastanza. Allora, allora, venghi su, fantocci, si sbrighi, andiamo. Eh, scusi, mi posso berrettare? Ok. Mettere un berretto. E perché? È perché mi vergogna di questo tipo. Di che? Ma va bene, a monte. Va bene, si imberretti. Va bene, mi senti, venghi. Simberretti.